benvenuti in questo video nel quale vedremo come creare una classroom in un video precedente abbiamo visto come entrare in una classroom altrui cosa che tipicamente serve agli studenti in questo vedremo come creare una nostra classroom naturalmente con l'account solito cioè chiocciola liceosansepolcro.eu il tutorial è molto simile al precedente e così anche il motivo classroom è soprattutto in questo momento per noi uno straordinario strumento di comunicazione con i ragazzi in altre parole classroom ci evita di dare loro il nostro numero cellulare e di creare quindi gruppi whatsapp naturalmente possiamo sempre farlo però il numero personale resta personale classroom è uno strumento della scuola inserito nel piano triennale dell'offerta formativa quindi in altre parole uno strumento ufficiale classroom dunque ci permetterà di comunicare con gli studenti e quando avremo preso dimistichezza anche lavorare con gli studenti vale a dire ricevere consegne elettroniche dei loro lavori naturalmente classroom funziona sia da desktop vale a dire da computer sia da app mobile io consiglio fortemente di dire ai ragazzi di installare l'app di modo tale che ogni nostro intervento in classroom sarà loro istantaneamente notificato tramite app vediamo come si inizia il primo passaggio come sempre è il login cioè bisogna autenticarci nella piattaforma quindi cognome punto nome chioccio aliceosansepolcro.eu inserire la nostra password dopodiché in alto a destra come abbiamo già visto bisogna cliccare i 9 quadratini che fanno uscire fuori questa specie di pop up nel quale occorre cercare classroom non sempre immediatamente visibile bisognerà premere in basso su altro e alla fine uscirà fuori l'icona di classroom che vi ricordo è esattamente questa quindi verde con il perimetro giallo dicevamo login richiamiamo classroom a quel punto ci troviamo in questa schermata se abbiamo fatto il login corretto quassù dove io sto muovendo il mouse ci sarà il nostro nome cognome bisognerà poi cliccare sul più se in un tutorial precedente abbiamo visto iscriviti a corso ora dobbiamo invece cliccare su crea un corso cliccando qui verrà fuori una schermata nella quale noi dovremo mettere il nome della classe e la materia insegnata volendo anche il luogo perché bisogna ricordare che classroom nasce negli stati uniti quindi lì è piuttosto significativo sapere in quale aula si tiene una lezione un po come per noi per i laboratori però specie in questa fase è tutto sommato secondario specificare questo campo quindi si clicca sul più e si va su crea un corso una volta creato questo è il pannello che avremo davanti qui vedete più corsi questi sono i miei effettivi corsi vale a dire la classe di latino greco e media education della prima la quarta di latino la seconda poi vedete che ho anche classi che riguardano progetti trasversali questo riguardava la notte bianca e questo l'attuale palestra di classroom nella quale molti colleghi sono iscritti per imparare un po l'uso del programma ora ve lo faccio vedere in maniera un pochino più diretta eccoci nel vero e proprio pannello quello che fino a un attimo fa vedevate come immagine statica allora in alta destra c'è un più ecco qui vedete le uniche due opzioni disponibili iscriviti a corso crea un corso quello che stiamo vedendo adesso è crea un corso quindi proviamo a crearne uno clicco nome normalmente la sintassi che usiamo è classe e materia quindi potrei ipotizzare terza a s fisica ecco qui sezione posso riprendere a s materia volendo posso riscrivere fisica stanza non importa crea ora la cosa più importante una volta creata la classe il sistema ci restituisce un codice un codice alfanumerico molto breve che deve essere necessariamente comunicata ai ragazzi ovviamente deve essere comunicato a voce perché il canale se non abbiamo classroom attivo non è ancora avviato con loro il canale elettronico ma necessariamente dobbiamo trovare un sistema ecco la classe è questa il codice è questo qua lo vedete piccolino cliccando questo quadrato si ingrandisce questo codice è r77 dq bu attenzione maiuscole minuscole qui sono significative quindi attenzione quando lo comunichiamo ai ragazzi ovviamente in questa prima fase questo codice potremmo metterlo su spaggiari oppure della cosa più pratica anche se poco rituale si informano telefonicamente un paio di ragazzi si chiede loro di comunicare il codice agli altri una volta che il codice sarà diffuso presso gli studenti gli studenti li vedrete qui nell'area persone qui compariranno i loro nomi normalmente stiamo nello stream stiamo nel flusso non è questo lo scopo di questo video vedere come funziona il flusso i lavori le persone i voti però sostanzialmente l'immagine di classroom è questa vale a dire è una specie di blog molto semplificato questa immagine di copertina viene creata in maniera casuale in questo caso vedete due joypad volendo andiamo su selezione tema e c'è una piccola selezione questa è una stanza di un classroom di fisica quindi vado su matematica e scienze e magari io metto questa immagine quindi seleziona il tema della classe oppure perché no carica foto e posso inserire una mia fotografia vedremo in un post successivo è un video successivo come caricare i materiali dentro classroom per ora abbiamo terminato